Ciao, dopo aver riguardato 40.000 volte e aver imparato, avendola fatta 80.000 volte la Capsong, potete finalmente arrivare a fare la Capsong con due bicchieri, che è in questo modo, è molto simile alla Capsong normale, solo che non avendo un'altra mano per battere, abbiamo i due bicchieri. Ve la faccio vedere una volta. Allora, si fa in questo modo. Questo lo conoscete, io lo faccio sul posto, ma potete anche spostarlo al lato, dove vi è più comodo. Basta che lo spostate. La parte semplice è sempre la stessa. Poi arriva la parte complessa, che è quella che cambia un po'. Sbatte i bicchieri, o li appoggiate così, o l'angolo, che è meglio, insieme. E poi, questa è la parte più difficile, li prendete da sotto, rigirate, e uno sopra l'altro. Ok, perfetto. Ci sono anche varie combinazioni, tipo farlo una volta e alla seconda volta sovrapporli per fare una Capsong singola, tipo Tipo di questo genere. Dovete imparare, però, soprattutto la Capsong A2. Grazie per aver guardato il mio tutorial, seguite il mio canale. Ciao!